Sono giorni caldi per il Palermo, non soltanto per le alte temperature, ma perché questa è la settimana che precede il primo impegno ufficiale della stagione per la squadra di Dionisi che domenica pomeriggio alle 18.30 sfiderà il Parma in Coppa Italia in occasione del primo turno. Sarà una importante occasione per confrontarsi con nuove squadre. Al di là di quelle che già il Palermo ha affrontato nei test amichevoli, la squadra di Dionisi avrà l'occasione per confrontarsi con squadre di categoria perché comunque il Parma gioca sì in Serie A, ma fino alla passata stagione i Rosa Nero l'hanno affrontata per due volte in Serie B e sarà anche occasione per capire come intende schierare i suoi uomini Dionisi. Quella che potrebbe scendere in campo a Parma molto probabilmente sarà poi la formazione prescelta dal tecnico del Palermo anche per affrontare il campionato che ricordiamo per il Palermo inizierà venerdì 16 agosto alle 20.30 in anticipo contro il Brescia in trasferta. Dicevamo giorni caldi non soltanto per il campo ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Qualche giorno fa il direttore sportivo del Palermo De Santis ha detto che c'è ancora qualcosina da fare per completare la Rosa e che la Rosa si vuole completare prima dell'inizio del campionato. Oggi il 6 agosto abbiamo detto che il campionato inizia il 16 e quindi saranno 10 giorni cruciali per consegnare a Dionisi una formazione pronta per disputare la prossima Serie B e De Santis lavora sia in entrata che in uscita. Le ultime cessioni che sono state ufficializzate sono quelle di Stulaz e di Devetac ma sono anche altri rosa-nero destinati molto probabilmente a lasciare Palermo e stiamo parlando di Damiani che dovrebbe raggiungere il Pescara di Baldini vecchia conoscenza del Palermo. A questo potrebbe aggiungersi anche l'addio anche se è soltanto per una stagione del giovane difensore Peda che potrebbe giocare nuovamente in prestito questa volta in Polonia. E poi naturalmente si lavora anche in entrata. Il settore che ha bisogno maggiormente di essere rinforzato è la corsia sinistra. Serve un terzino sinistro, tal proposito il nome più chiacchierato nelle ultime ore è quello del palermitano di Chiara. E poi si dovrà lavorare anche in attacco perché gli unici due attaccanti a servizio di Dionisi sono Brunori ed Enri e quindi certamente servirà qualcuno anche lì davanti. Lo dicevamo, sono giorni caldi, giorni intensissimi e attendiamo cosa riserverà ai colori rosa-nero questa sessione estiva di Calcio Mercato.